Un'indagine epidemiologica che abbraccerà gli ultimi 50 anni e dovrà accertare le cause dei decessi e delle malattie contratte dai lavoratori. Sarà questo il cuore dell'incidente probatorio nell'ambito di un'inchiesta sullo stabilimento Bridgestone di Bari e che dovrà verificare il possibile ennesso di causalità tra lo stato di salute di alcuni operai e l'esposizione ad alcune sostanze del ciclo di lavorazione nella fabbrica. L'indagine riguarda la morte di 17 dipendenti e l'insorgere di patologie in altri sei. Sono iscritti nel registro degli indagati, con le accuse di omicidio colposo e lesioni personali colpose per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sei ex amministratori e responsabili della sicurezza dello stabilimento. Con loro, indagato anche il medico che su mandato dell'azienda ha redatto il documento di valutazione dei rischi legati alle malattie professionali. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore aggiunto Anna Maria Tosto e dal sostituto Patrizia Rautis, fu avviata nel 2006 sulla base delle denunce di alcune vittime. Nel 2011 la procura aveva richiesto l'archiviazione del fascicolo, ma il GIP, accogliendo l'opposizione delle parti offese, aveva disposto ulteriori indagini. Due esperti, il professor Luigi Vimercati dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Bari e l'ingegnere Maurizio Orsini, dovranno accertare non solo le cause dei decessi e delle patologie, ma anche la natura dei materiali usati nella lavorazione delle gomme. Tra i loro compiti, anche quello di effettuare un'indagine statistica di natura epidemiologica percorrerà il numero dei morti degli ex laboratori, con l'insorgenza di quelle stesse patologie sull'intera popolazione regionale. L'esame dei periti è stato fissato per l'udienza del 9 e 13 marzo 2015.